La palazzina come gestiscono molte occupazioni che ci sono su tutto il territorio nazionale, non a caso i centri sociali prendono e spesso hanno delle graduatorie di fatto parallele alle graduatorie delle case popolari, quelle comuni a tutti noi fatte dalle amministrazioni, dove inseriscono quando hanno un tot di persone e vanno a fare le occupazioni, poi non so di fatto se è vero che vengano pagate o no, però vengono fatte queste cose. Non è ammissibile un'altra cosa che ha detto la sindaca però di Torino, che vuol cercare dei soldi dalle fondazioni per poter fare l'inserimento di tutte queste persone, chi è clandestino è spacciatore e va mandato a casa.